Il 15esimo anniversario della Costituzione dell'esercito italiano. Era il 4 maggio 1861, quando con un decreto dell'allora ministro della guerra, Manfredo Fanti, nacque il regio esercito italiano, unificando l'armata sarda con gli eserciti provenienti dai vari staterelli della penisola. Oggi preso la caserma Francesco Redi di Firenze, con un'alzabandiera solenne, alla presenza del comandante, generale di brigata Giuseppe Adami, di autorità civili e militari, si è celebrato l'anniversario a cui ha partecipato anche una folta rappresentanza di studenti di alcune scuole e di giovani calciatori della Fiorentina. Nel tempo l'esercito italiano ha contribuito non poco ad amalgamare e ad avvicinare giovani provenienti dalle più svariate realtà regionali, rappresentando così un importante fattore di unità nazionale. Oggi sono cambiate le priorità, ma i compiti a cui è chiamato l'esercito restano lo stesso molto impegnativi. Il soldato era inizialmente, secondo i dettami del Regno d'Italia, rappresentava l'esercito di popolo. Successivamente, cambiando la missione nei vari periodi storici, fin dopo guerra, abbiamo una nuova figura di soldato che è volta all'impiego non solo in territorio nazionale, ma anche per altre funzioni della difesa che riguardano l'impiego fuori dal territorio nazionale. Quindi, in particolare in questo ultimo periodo, abbiamo un impiego del militare in funzione della difesa comune europea. Esercito di leva e adesso esercito professionale. Quali le differenze? Beh, fondamentalmente le differenze sono due. Una riguarda il fatto che l'esercito di leva, se non altro, era un esercito di popolo, quindi accomunava le tradizioni e gli ideali di tutti gli italiani, dei giovani, insieme. Quindi permetteva di farli conoscere, i giovani del nord con i giovani del sud, le varie culture, le differenze che c'erano. L'esercito professionale, invece, ha il vantaggio che il personale impiegato è spendibile in qualsiasi tipo di operazione, come ho ricordato prima. Non sarebbe pensabile oggi, con il personale di leva, fare le missioni e i terrati operativi oltreoceano. La caserma Francesco Redi è ricca di memorie storiche ed oggi i scolareschi e i cittadini hanno avuto modo di conoscere da vicino l'interessante museo della sanità militare, ricco di oggetti unici, come per esempio un completo ospedale da campo degli anni 30 o le prime radiografie. Ricordiamo che presenze illustri del Dipartimento di Medicina Legale della caserma sono stati lo scrittore Mario Tobino e il premio Nobel per la medicina Renato Dulbecco. In un'altra ala della caserma è stata inoltre allestita una mostra di uniformi storiche dell'esercito italiano che ha riscosso molto interesse.